Sembra una storia dal libero cuore. La vittoria del big match nel turno infrasettimane dell'eccellenza con la Sina Lunghese acquisisce un significato che va oltre la classifica. Tre mesi fa il figliere era una società alla deriva. Lo scandalo scoppiato dopo la partita di spareggio con il tau alto pascio aveva portato all'indice la società valderdese che non dimentichiamo nella passata stagione vinse sul campo il campionato. Poi un discutibile comportamento nel girone finale tra le prime classificate della Toscana portò ai fatti che ormai hanno fatto storia e occupato più la cronaca giudiziaria che quella sportiva. Il successo venne revocato a vantaggio del livordo e la società valderdese uscì letteralmente a pezzi da una vicenda che ancora non si capisce perché venne imbastita visto che i presupposti per la vittoria sul campo c'erano tutti. Ne fecero le spese l'allenatore e il DS più altri tesserati. Ripartire non è stato semplice ma alla fine la struttura di quella squadra è rimasta sul campo. Sta avendo i suoi risultati dopo sette giornate. Il figliere è tornato al primo posto e ha tutta la voglia di lottare fino alla fine. E non ci poteva essere risposta migliore. La formazione valderdese merita un plauso per come ha reagito. Altri sarebbero rimasti ancora sotto sciocchi. Quella punizione è diventata una molla per il riscatto.